Si lavora per cercare un sito in un'area industriale idoneo a delocalizzare le fonderie Pisano. Non siamo fermi, ma neanche si può pensare che lo spostamento possa avere tempi brevi. L'ARPAC verificherà con controlli costanti l'impatto ambientale ed il processo di sospensione della regione Campania. È un atto che tutela il rispetto delle regole. Lo ha detto l'assessore comunale all'ambiente Gerardo Calabrese e il giorno dopo le tensioni registrate dinanzi allo stabilimento di fratte di Via dei Greci. L'episodio si è verificato davanti ai cancelli della fonderia Pisano. È un episodio sicuramente da condannare, deprecabile. Tant'è vero che io ho evitato nei giorni scorsi di regarmi presso la fonderia proprio per non dare adito ad elementi ulteriori di tensione. Soprattutto per non fare passarelle elettorali perché questo periodo sicuramente può essere come di interpretato in questo modo la presenza lì presso le fonderie. Detto questo noi stiamo lavorando ormai da qualche settimana anche a seguito per la verità di una richiesta che c'è stata da parte della stessa proprietà della fonderia di incontro sia con la provincia che con il comune di Salerno. Il primo incontro in provincia si è tenuto e stiamo proprio lavorando alla ricerca di un sito in area industriale che possa essere idoneo a consentire la delocalizzazione in tempi brevi. Mi sembra tra l'altro che la fonderia Pisano abbia rivisto un po' i progetti di delocalizzazione nel senso che non occorra più una superficie di 200.000 metri quadri ma anche un sito diciamo una superficie inferiore potrebbe essere ugualmente idoneo e quindi questo faciliterà la ricerca ulteriormente e speriamo in tempi brevi. Naturalmente non è immaginabile un percorso come dire di poco tempo di delocalizzazione occorreranno sicuramente degli anni. Nel frattempo durante l'attività, in ogni caso di esercizio dell'attività, continueremo a sollecitare costanti controlli anche con il sindaco. Abbiamo concordato di chiedere all'ARPAC una presenza più costante di monitoraggio sull'impianto. Mi pare che la regione Campania finalmente per la prima volta si sia anche attivata. Adesso questa ispezione ha messo in luce delle criticità. Noi siamo stati sempre a difesa delle regole, tant'è vero che quando la fronteria Pisano in passato non le ha rispettate ed è stata rinviata al giudizio, ci siamo costituiti anche parte civile nei vari procedimenti. Però penso che questo non porti da nessuna parte. I tempi sono maturi, mi sembra che la stessa proprietà abbia assunto un atteggiamento collaborativo e quindi credo che se lavoriamo tutti quanti insieme ai lavoratori, ai cittadini che stanno legittimamente manifestando e dobbiamo continuare a garantire il diritto a manifestare, penso che la soluzione la possiamo trovare. I cittadini che stanno manifestando hanno detto che non facciamo una guerra dei poveri sabato mattina dinanzi al Palazzo della Prefettura arriveranno anche i lavoratori con le loro famiglie. Un diritto alla salute, un diritto al lavoro, ma c'è ancora però chi lascia intendere che probabilmente negli anni ci siano stati dei controlli non fatti proprio in piena regola, dove non c'è stata trasparenza. Solo oggi si ritorna a parlare in maniera così forte della delocalizzazione. Io ripeto, anche per il passato io non posso rispondere di altri enti e di competenze che non sono in capo al Comune di Salerno. Quando si accusa onestamente l'amministrazione di essere stata in est in questi anni non capisco cosa si intenda. Addirittura leggo su qualche organo di informazione locale che avremmo potuto impedire la realizzazione della fonderia o meglio l'esercizio della fonderia se avessimo espresso un parere negativo in conferenza dei servizi all'epoca quando nel 2012 è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale. Chiariamo che lì in quella sede noi abbiamo espresso semplicemente un parere di compatibilità urbanistica al nostro piano urbanistico comunale, lo stesso che abbiamo approvato nel 2007 e che ha previsto una norma per favorire la delocalizzazione delle fonderie pisane oltre a delle prescrizioni per quanto riguarda l'immissione dell'inno di acque reflu e bianche.